Ricciao, scusate se mi vedete vestita come lo scorso video, ma ovviamente ne sto girando uno dietro l'altro e per non staccare, andarmi a cambiare, che non vedo il senso Allora, ho deciso di spezzare questo video in due pezzi, perché altrimenti verrebbe lungo infinito Ora oggi faccio quello sui costruttori, che sto utilizzando e la review di quelli che ho utilizzato finora, perché se io dovessi fare tutti i prodotti per la ricostruzione unghie il video verrebbe infinito, quindi oggi faccio la review sui costruttori la prossima settimana magari farò quello sui colori e sui pennelli, o sugli strumenti, sulle cose che sto utilizzando Allora, faccio una piccola premessa, io utilizzo varie marche La cosa importante per me è che siano made in Italy e che abbiano ovviamente la certificazione del made in Italy o comunque in Europa Non compro nulla made in Cina, perché non mi fido purtroppo Anche se molti dicono, eh ma tale ditta fida i controlli dei materiali prodotti in Cina Mi dispiace ma io non mi fido lo stesso Perché ne ho sentite troppe di ditte che falsificano le certificazioni Diciamo che fanno dei controlli un po' alla Carlona Quindi siccome purtroppo in Oriente, quindi in Cina, da quelle parti là Ancora utilizzano materiali pericolosi Io voglio evitare e preferisco comprare prodotti sicuri Quindi perché, sia perché vanno a contatto comunque con la pelle Le unghie diciamo sono impermeabili, quindi per penetrazione Ma comunque quando si va a frezzare Si inalano, volendo o volente o non lente Si inalano alcune parti di queste polveri Scusate che giro leggermente così magari mi vede meglio Volente o non lente si aspirano un po' di queste polveri Quindi preferisco assolutamente evitare Anche perché cosa vai a risparmiare Se non si risparmia sulla salute Io lo dico sempre Allora, i miei costruttori Sono per il 90% dei miei costruttori No, il 50% dei miei costruttori sono Passione Unghie Perché è una marca con cui io mi trovo bene Perché costa poco, è economica, è di grande qualità Ottimissimo rapporto qualità-prezzo Perché la particolarità di Passione Unghie È che hanno, a parte le certificazioni di rito e tutto Utilizzano dei materiali sicuri Non solo a livello sanitario Ma anche a livello di colori È la cosa importante Sia i materiali con cui sviluppano il loro gel Che i colori Loro non utilizzano colori tossici Utilizzano tutti i colori completamente atossici Quindi è una cosa fondamentale Allora, io inizierei Facendovi vedere quelli che io ho usato finora Allora, io compro da permettere tutti i gel in vasetti piccoli Perché facendo le ricostruzioni solo ed esclusivamente su me stessa Non trovo l'utilità di comprare un vasetto di gel grande Quindi prendo vasetti da 15 ml Non da 50 ml Però prenderò Penso che prenderò Il vasetto da 50 ml Di palladium Perché il palladium Che è questo qua Il palladium Una moschina Il palladium Che è questo qua Il 3 in 1 Il clear gel È uno che io utilizzo tantissimo È praticamente Infatti Non so se riuscite No Aspettate che c'è il top È praticamente finito Non lo inclino Perché praticamente Non lo inclino Perché se lo inclino È molto liquido in questo momento Che fa caldo E allora Io quest'estate ho dovuto rallentare l'utilizzo di questo Perché? Perché scivola Ha un piano di scivolamento molto veloce Perché purtroppo c'è caldo Ed è diventato molto fluido L'ho utilizzato a smalto come base Per esempio per il cover Allora io con questo mi trovo molto bene L'ho utilizzato Un vasetto da 15 ml L'ho finito in 6 mesi Più o meno È quasi finito Quindi l'ho finito in 6 mesi E mi sono trovata divinamente con questo Quindi sicuramente comprerò il vasetto più grande Perché tra i costruttori di passione unghia È quello con cui mi trovo meglio Perché io se ricordate avevo comprato di questa marca Di passione unghia Il kit mono Che comprendeva il palladium e il maximum Allora Che è un builder gel Allora il maximum è molto troppo tenso Per i miei gusti Allora in questo momento che fa caldo Non so se riuscite Guardate com'è denso Cioè non si muove ragazzi Non si muove completamente Allora A me piace un gel che non si muove Che rimane Ma non troppo Perché faccio fatica a livellarlo Quindi ne ho usato un po' Ma non mi sono trovata granché Quindi tra i due preferisco il palladium E penso che Quest'inverno Non appena avrò finito Quelli che ho Comprerò il palladium Un altro costruttore Ma non è un costruttore È un colored builder Quindi non è un monofasico questo Questo è Serve una base per metterlo È il natural builder Allora il natural builder Ve l'ho fatto già vedere Guardate che solido Allora io questo L'ho utilizzato un po' E mi piace soprattutto Per fare gli allungamenti Ossia Quando metto il gel in cartina Per andare a guardare bene Dove lo distribuisco Preferisco utilizzare questo Che proprio mi fa vedere bene Dove ho messo il gel Piuttosto che quello trasparente Che faccio più fatica A vedere dove Dove vado a distribuirlo Questo per gli allungamenti È fantastico Per la bombatura Quindi per la struttura Mi piace Ma non mi entusiasma Preferisco gel più autolivellanti Questo si autolivella a fatica Ossia bisogna aspettare un po' Per farlo livellare Quindi preferisco utilizzarlo Per gli allungamenti Un altro gel Che ho utilizzato E che ho comprato E ho gradito Anche se anche lui È bello denso È Infinity Infinity è un gel Monofasico Ha con un fattore di protezione UV Quindi io lo uso a smalto Sui colori delicati Per evitare che si sbiadiscano al sole Anche se io non prendo Gran che di soli Guardate com'è Allora questo lo vedete È un po' azzurrino Eccolo Allora è denso Molto 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 denso Anche questo Ed è molto comodo Io mi trovo benissimo Con questo L'ho utilizzato anche Per le bombature Ovviamente tutti i prodotti Tutti i gel Di Passione Windia Sono acid free Tutti Tutti sono acid free Ed è una cosa importante Allora Un altro Spendo altre Ovviamente Un'altra parola Su un prodotto Allora Questo non è un monofasico Questo è un Builder gel Sempre Ed è L'extra pink Allora Extra pink È favoloso Un colore splendido Purtroppo Però Fa fatica A livellarsi Adesso diventa Adesso è abbastanza Ecco Adesso è abbastanza Fluido Perché fa caldo Vedetelo È un rosa Bambola Ed è ottimo 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 Per le Come camouflage Però ovviamente Non è naturale Come colore Quindi Fa un effetto Bambola Molto finto Tra virgolette Quindi È perfetto Per la baby boomer Non so se Conoscete la baby boomer La baby boomer È Quella Quella particolare Lavorazione Che Vede La Diciamo La parte La parte finale Dell'unghia bianca Che va Diciamo A diventare Più Lattiginosa Verso il rosa Viene sfumato Con delle spugnette Non so Cercatelo Su google Così Vedete di cosa si tratta È un effetto Diciamo Tra virgolette Una Una Manicure Un po' particolare Una Una nail art Ecco Non una manicure Scusate Una nail art Un po' particolare È tutto di sfumature Con questo bianco E questo rosa Lattiginoso È stupenda A me personalmente Non riesce Faccio fatica Ancora a capire Come Un altro prodotto Di passione Su cui voglio spendere Un secondo È Gemma Gemma È un finish gel Quindi è un lucido Ha una particolarità È Va steso È un Praticamente Lo stesso Fa lo stesso lavoro Che fa Un finish A pennello Sì In boccetta Praticamente Però Va steso A pennello Un po' più abbondante Va catalizzato E poi Bisogna aspettare Qualche minuto Io aspetto 3-4 minuti Per sgrassarlo Perché? Perché altrimenti Non resta lucido Si opacizza un po' Mi trovo bene Preferisco però È molto più veloce Il metodo Col pennello Normale Quindi con la boccetta Un altro prodotto Però Questo l'ho utilizzato Poco Perché Io preferisco Fare il french Superficiale Questo invece È artico Artico Io lo utilizzo Quando faccio Il french Con la tecnica Del muretto Quindi Quando fai il muretto Con il cover E poi usi Questo Con la tecnica Del muretto L'ho utilizzato Una volta sola Su tip Per provarlo È molto bello Però ovviamente Al momento Non l'ho utilizzato Bene Direi che con i prodotti Di passione Ho terminato Spendo Un'altra Parola Allora Il mio primo Builder gel È stato Questo qua Della Mesauda Milano Ed è il Builder mono Ecco Builder mono Allora Questo è praticamente Finito La boccetta È praticamente Vuota L'ho conservata Per utilizzarla Nel caso Mi dovesse servire Questo gel È fantastico La stesura È ottima È autolivellante Duraturo Però È un po' caro Perché La Confezione Da 28 ml Costa circa 30 euro Troppo caro Quindi Preferito Rivolgermi Altrove L'ultima Cosa L'ultima Parola L'ultima Parola La spendo Su questa Marca Allora Io di questa Marca Ho due Cover L'uno E il due Questa Marca È Lab Nails Come sapete Io mi trovo Benissimo Con questo Con questo Prodotto Ora Ve lo faccio Vedere Aperto Perché Ne ho Tre Di questi Perché Le adoro Si trova Solo Giù In Sicilia Quindi Allora Questo Ovviamente Quasi Finito Eccolo Vedete Che colore Meraviglioso Questo È il numero Uno Ed è quello Che secondo me È più naturale Con questo Mi trovo Benissimo È il mio Cover Preferito Lo adoro Lo amo E non ho voluto Provare altro Al momento Non sto provando Altri cover Anche se Mi curiosisce Moltissimo Rosa E pesca Di passione Unghie Ma finché Ho questi Utilizzo questi Poi lo prenderò Per provarlo Bene Direi che Al momento La mia review Dei costruttori È terminata Prossimamente Vi farò La review Dei colori Dei Dei finish Per Fare un discorso Un po' più ampio Vorrei farvi Anche una review Su Gli attrezzi Gli strumenti Ora vi saluto Vi ringrazio Ci vediamo Al prossimo video Ciao